Ciao a tutti amici del canale, bentornati in questo nuovo video. Sono qui oggi per cominciare un vlog di un giorno, ma in realtà è un vlog di una gara. Non chiedetemi perché fanno una gara di mercoledì, perché non lo so, però è una gara di un giorno, oggi che è mercoledì, alla Malassina. Però la centro è al 110 condominino e basta. Voi non volete sapere che mi sono sveglia, perché la mia sveglia era alle 6.20, poi alle 6.30. Non potevo crederci quando suonavo, tipo no. Adesso sono quasi le 7, devo uscire, andare a prendere la metro, incontrarmi con un amico alla metro, fare 2 milioni di fermate, tipo 16, non ho mai fatto così tante fermate, arrivare a Bicocca, dove con la mia istruttrice partiremo per Malassina. E come al solito vedrò tutte le categorie e vabbè io mi diverto, cioè in realtà la sveglia è un trauma, però poi là mi diverto a stare le 12 ore a vedere tutte le gare. Quindi sì, basta, smetto di parlare. Guys, allora, prima di tutto si gira, non so perché fa così tanto freddo, ma ovviamente non mi sono portata una felta, niente, ma... Fa freddissimo. E poi un'altra cosa, dovete sapere che io cammino molto veloce, no? Quindi sono in grado di modulare se mi impegno. Stavo dicendo prima che una fantastica signora pensasse bene di comparire all'improvviso e venirmi dietro, quindi ho dovuto aspettare due ore e mezza per non parlare. Comunque so abbastanza modulare la velocità a cui vado, no? Quindi tipo ora sono in anticipo e sto rallentando in un modo imbarazzante. Quindi sto facendo dei micropassini che sembro smorta. Però volevo dire questa cosa. Sì. E basta, ci vediamo dopo. Ah, e poi è bello andare in giro vestiti da gara. C'è un conto da cavallo, ma da gara sembro proprio malata mentale. Io vedo un pony che conosco, è white. Ti vuoi dirci qualcosa? Sta fermissimo, che bravo. Ma sai pure come si chiama, Virgi? No, non si credo, non lo sai. Si chiama... Esatto, brava. Guarda, ma... Guarda gli occhi, la maniera non me l'ha accorta. A me non piacciono se mi mettono l'ansia. Ma sembra quelli di un gatto, che fighi. Ma ne sono più belli. Va bene. Guarda, 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 che carino. Bravo, Sunset. Carezza. Bravo. Guys, cerco, valeno. Ok, basta. Vai. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Siamo là. Amma la spina. Sì, arrivo, arrivo. Questo è l'apo, questo è il pullo di white. Dicci, Ceci. Devi salire? Sì, in campo pro. Sali. Falo stupido. Sali. Ah, andiamo in campo pro, vai, poi saliamo. La scena è come Cecilia, sale a cavallo. Dimmi. Allora, io devo fare la 70 e l'80. Come vedete, questo pony è il pony che ha montato la terni. Sai che è famosissimo ormai white? Dov'è lui? Guarda che tutti mi fanno, ma perché monti white? Ma è il tuo cavallo nuovo. Io faccio, dai, un po'. Sì, sono io, la profettaria. Ciao, 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 mamma mia. In questo pony fantastico. Ciao. Filmami. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Questa. Ecco, Perni. Cosa è il mio telefono? Buongiorno. Viola. Filmo, filmo. Ciao a tutti. Benvenuti nel mio vlog. Ecco, Perni ha le prese con Nordwind. Nordwind. No, ma è sfocata la mia fotocamera. Uh, è salita subito. Wow, brava Ceci. Tempo ricco. Avvolini, su sto pancia. Eh no, mi sono disto avanti. Sono troppo brava come cameraman. A me non mi sono. Letty. Hello. Vado? Vai, vai, è già pazzesca. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Benvenuti nel mio vlog di questo weekend. Eh no, è mercoledì. Ci sono le pistole d'acqua. Ho appena fatto la 60 ed è andata molto bene. Ho fatto netto e quindi... Posso stare un po' più in onda di Pernino. Ciao, ciao. Ciao, io ho metto sempre a me. Dopo vi faccio vedere il mio pony. Ciao. Di chi è il tuo pony? Di chi è il tuo pony? Per chi la preferisce me? Di chi è? Di chi è il tuo pony? Ah, il mio pony è lo White Snake. E lo conoscono tutti. Esatto. Ecco, ciao. Ciao, è pronto. Iscrivetevi al canale e mettete un bel pollice in su. Brava, Ceci, brava. Bravi. Unite lì. Vai, vai, basta. White. Ciao. Ciao a tutti. Benvenuti nel mio vlog. E io sono la sua miglia di raggiungere il video. E per i video su YouTube. Oggi. Ciao a tutti. Oggi per i video su YouTube. Io sono la sua groom. Eh, lei è il mio groom. Io sono più importante però. E questo poi è... È il nuovo pony. È White. White lo conoscono tutti. E infatti è quello che è montato. E adesso è anche caduta. Adesso infatti tolgo la capezza come vedete. È arrivato il van. Oddio. Uh, è arrivato il van. È arrivato il domino. No, non per terra. C'è la fa questa. Ops. Ops. Ok. Raga, la mia pony è più bella. No, perni. Fai vederla. Facciamo vedere. Seguitemi su WhatsApp. Ti mostro tutti i miei pony preferiti. Tutti così carini. Eccola. Aspetta, non so sotto. C'è, lei non so molto brava. Sotto pancia. Vai Ceci, dici. Allora. Sei un po' contro luce. Girati. Girati Nordwind. Dici. Allora, volevo dire. Sì. Che questo qua. Eh sì, certo. Questo qua. Ciao. Questo qua è il mio fantastico pony. Il mio principe. Sì. Allora, abbiamo fatto la 70. È andata bene. E perni mi ha fatto il tifo. Certo. Ovviamente. Poi, dopo, adesso faccio l'80 e sono molto in ansia. Ma no. È un po' alta. Andrà benissimo. Tu monta bene, mi raccomando. Ciao. Vai, lei. Esprimici. Allora, questa è mia pony. Guardate quanto è tonda. No, scherzo, sono le tonda. Però, vabbè, di solito sì. E la sto montando mio fratello, però è anche mia. E dopo la monto io e faccio alle 80 perché altezza grandiosa delle 80 centimetri che ho una paura, vabbè. No. È una pony bravissima. Sì. E pernila mi sponsorizza in questo momento perché avrò un sacco di follower stasera. Ciao. Mimino. Diamo nel ripeto. Le ho appena to tutte le fasce, le ho messe lì. E ormai sono, cioè, bravissima a facciare tipo la seconda volta che gliele faccio. La prima era veramente da schifo, però ho imparato. E basta. Adesso mangio, ovviamente. Davvero. Tutti. Un po' più. 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 Grazie a tutti 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 Facciamo Ringo Tu sei la vaniglia Tu sei sesta Io sono La vaniglia con un sapore strano Io sono Tredicesima Quindi facciamo la recognition Tutti sul podio Ah guys ho vinto una bilancia da cucina E la cocarda è strafiga La cocarda è bellissima E poi mi hanno dato anche una roba ovale carina Con scritto second class Ah è vero Adopo Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un video per il vlog della youtuber. Grazie, è stato bravo. Ciao. 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 Allora, sono tornata a casa. Penso di avere circa 1.799 milioni di video, di clip, di pezzetti, di cose. Quindi questo vlog sarà stato molto confusionale. Comunque vorrei dire che sono la persona più felice di questa terra perché ho fatto 0 in 100, sono arrivate seconda e 0 in 110, sono arrivate terze. Sono felicissima, è stato bravissimo e sono super 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 felice. E io volevo ringraziare delle ragazze che mi hanno lasciato un cartellone. Meno male che io sono ripassata da Domino per andare via e mi hanno lasciato questo cartellone, se no non l'avrei mai visto. Adesso ve lo faccio vedere. Ragazzi vi dico solo che non ci stava neanche per terra da quanto è gigante, vi assicuro che, non so se rende, ma vi assicuro che è enorme. C'è scritto Pernilla e Domino, ci sono queste foto che c'è, non so, questo è il mio piede, io ho il piede piccolo, però questa foto è enorme. Poi c'è questa che io amo, poi c'è questa che è stupenda, amo anche questa. Poi c'è questa in cui è stata tagliata ante, tanto c'è quante. E poi quasi pieno di scritte, ed è da Sofia e Martina. E niente, io vi amo, cioè è stupendo, è gigante, è bellissimo, grazie. Poi mi hanno anche lasciato un sacchetto con dentro queste lettere che vi giuro, adoro, sono stupende, P e D, cioè amo troppo. E poi qua non si vedrà mai, ma è pieno di caramelle, cioccolato e adoro, cioè vi amo, grazie. E poi c'è questa busta, che adesso apro. Grazie davvero tantissimo a Sofia e Martina per questo biglietto e per tutti i regali, vi giuro, grazie mille davvero tantissimo. E vi lascio qua da qualche parte il loro Instagram, grazie mille davvero. Io volevo ringraziare anche tutti i milioni di persone che oggi mi fanno, ma tu sei Pernilla? Io tipo, sei io! E quindi grazie, cioè ogni persona che mi giravo mi conosceva, ero tipo, oddio, tu come fai a conoscermi? Però vi giuro, grazie grazie mille a tutti, siete state carinissime, carinissime, ho fatto delle foto, ho fatto anche un autografo. E poi quindi grazie, grazie mille a tutti. Ah, e aspettate, ho anche un'altra cosa che mi hanno portato da fare vedere. Che è questo, che me lo sono tenuta nella borsa tutto il giorno. Perché letteralmente ero arrivata da dieci minuti, neanche, mi sono così, vi giuro, grazie mille. E adesso vi faccio vedere, per una volta nella vita che vinco qualcosa, ve lo faccio vedere. Cioè, nel senso, è da tipo febbraio che non vincevo qualcosa seriamente, quindi adesso ve lo faccio vedere. Allora, prima di tutto questa cucarda che non è mia, perché me l'ha data Ceci, l'ho detto, Ceci, guarda che io me la dimentico. La metto in borsa, te la tengo, ma mi dimentico di ritarsela e fa, sì, 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 mi ricordo, mi ricordo. È scomparsa, la cucarda è ancora nella mia borsa. Quindi Ceci, te la darò presto, appena ci vediamo. Poi, allora, nella cento sono arrivata seconda e quindi mi hanno dato questo con scritto, oddio, non riesco a farlo vedere. Con scritto secondo classificato e la cucarda, che è stupenda. E ho vinto una bilancia da cucina, perché se voi andate a cavallo, avete bisogno di una bilancia da cucina. Cioè, è il premio che ognuno vorrebbe, quindi io ho vinto la bilancia da cucina. Mentre in 110 sono arrivata terza, quindi mi sono beccata la mia targhettina, con scritto terzo classificato. La mia fantasca coccarda e una bilancia, non so come si definisca, per pesare le valigie. Giusto, perché anch'io tutti i giorni ho bisogno di pesare le valigie. Soprattutto perché vado a cavallo, quindi è necessario. Quindi volevo ringraziare tantissimo tutti di nuovo. E basta, vi voglio bene e sono felicissima di questa giornata, mi sono divertita un sacco. Sono felicissima di come ho montato, come ha saltato Domino, come è andato, sono felicissima. E basta, se questo video vi è piaciuto lasciate un pollicione in su, fatemelo sapere giù nei commenti. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!